Tradita da un abito troppo lungo, Cecilia Rodriguez è stata protagonista di una scenetta esilarante durante una manifestazione alla quale era stata invitata. Elegantissima nel vestito nero con tanto di pizzi e coda, si stava portando al centro del palco, annunciata da una musica trionfale. Il passo però è tutt'altro che spedito, la camminata incerta, qualche tentennamento e infine la rovinosa caduta. In soccorso della sorella di Belen è prontamente intervenuto un uomo già dietro le quinte, che l'ha aiutata a realzarsi e sistemarsi il vestito. E' troppo lungo, ha commentato la Rodriguez con ironia tra le risate degli spettatori presenti. E' anche pesante, ha aggiunto il suo soccorritore. Recuperato l'equilibrio e la concentrazione, la bella Cecilia ha potuto iniziare il suo lavoro, non prima però che l'uomo le chiedesse, ti sei fatta male? No, no, sto bene, ha tranquillizzato con un sorriso l'ex di Francesco Monte, ho solo fatto una gran figura di... Il pubblico che attendeva la bella fidanzata di Ignazio Moser si è lasciato andare a una reazione mista tra il divertito e il preoccupato, non facendo però mancare un grande applauso ed incoraggiamento. Il video di Ceju che cade sul palco sta facendo come era prevedibile il giro del web, scommettiamo che otterrà più clic dell'ormai nota scena dell'armadio?